Presidente Miani, 6.000 persone ancora muoiono ogni anno per amianto. Perché? Qual è la situazione? La situazione è che in Italia l'amianto è stato bandito 27 anni fa. Il problema è che la legge specifica ne ha impedito appunto la produzione e la diffusione ma non la bonifica, non l'ha reso obbligatoria e la fibra d'amianto è una fibra che perdura nell'ambiente molto molto a lungo e quindi ci sono ancora molte situazioni e molti siti, il Ministero dell'Ambiente ne ha 100 siti, 96.000 in Italia, in cui è ancora presente questa fibra killer e quindi dal momento dell'inalazione della fibra al momento dello sviluppo della patologia, nello specifico le più importanti sono il mesotereo da pleurico, quello laringeo e quello varico che sono tumori importanti e portano a morte, possono passare anche molti molti anni. I dati di 6.000 decessi anno sono dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto e quello che possiamo fare oggi è di sensibilizzare a tutti i livelli, dal livello nazionale a livello locale alle amministrazioni locali in modo che ci sia un'azione congiunta anche col Ministero per vedere di fare queste bonifiche, di farle in fretta, di farle bene ma di spronare anche i privati a farle perché spesso e volentieri ci sono situazioni in cui ci sono capannoni industriali o anche tettoie perché è molto Ethernet di questo amianto, non solo tubature, abbiamo in Italia 3.000 km di tubature che devono essere ancora bonificate e è necessario che anche il privato prenda a cuore questa iniziativa e incomincia a fare le bonifiche. Per esempio è stato calcolato che in Italia ci sono 2.400 scuole che sono ancora a rischio amianto o comunque limitrofe ad impianti ex industriali dove è presente l'amianto. Questo vuol dire che ci sono 50.000 docenti di scuola che sono diciamo a rischio e quindi esposti e 350.000 bambini. Ecco, su questi numeri è necessario agire e agire in fretta. Il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione recentemente 30 milioni di euro per iniziare la bonifica delle scuole e degli asili. È stata fatta una proposta di legge che prevede uno sgravio fiscale del 50% per i privati che decidono di fare le bonifiche. Però bisogna continuare su questa strada perché comunque in Italia tendono di essere smaltite o bonificate qualcosa come 37 milioni di tonnellate e quindi sono numeri molto importanti e questa è una patologia altamente invalidante che continua a colpire indistintamente da classe sociale, economico, culturale e quindi è un argomento di cui bisogna assolutamente occuparsi.